Pauroso incidente d'auto questa mattina intorno alle 7 su via Portacroce sulla discesa che conduce a via San Rocco. Una vettura con targa straniera occupata da più persone nel tentativo sembrerebbe di superare un mezzo che lo sopravanzava più ridotta andatura sul Calvario ha impattato con il cordolo esterno del marciapiedi. Il veicolo di colore grigio metallizzato e con targa straniera ha preso letteralmente il volo scontrandosi con il muro di una casa e terminando la sua corsa forse già capovolto sopra il tetto in lamiera di un edificio sottostante. Per fortuna a quell'ora nessuno transitava per la via. Sul posto allertati da alcuni testimoni si sono portati i soccorritori con un'ambulanza del 118, una volante dei carabinieri e un'autocisterna dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Lucera hanno estratto dall'abitacolo gli occupanti che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale con due vigili ausiliari che hanno consentito lo smaltimento del traffico veicolare e con loro il personale del servizio assistenza ACI. Un capannello di curiosi si è subito radunato sul luogo del sinistro scattando fotografie alla recinzione metallica di Velta e consolando due giovani donne, forse parenti oppure conoscenti delle persone coinvolte nella dinamica incidentaria.